Non passare sotto silenzio lo spregiudicato materialismo che tratta la vita come risorsa da sfruttare o scartare nel nome del potere e del profitto. Così il Papa, ricevendo la Pontificia Accademia per la Vita, è riunita sul tema accompagnare la vita, nuove responsabilità nell'era tecnologica. Nel richiamare il progresso scientifico e tecnologico verso responsabilità più umane, il Pontificia ha esortato anche la fede a riprendere l'iniziativa, ispirandosi alla parola di Dio nel pieno rispetto di ogni creatura e nell'alleanza tra uomo e donna, chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell'intera società. Le forme di subordinazione delle donne, detto il Papa, vanno definitivamente abbandonate, così come una società che neutralizza le differenze sessuali. L'utopia del neutro rimuove a un tempo sia la dignità umana della Costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale della trasmissione generativa della vita. La manipolazione biologica e psichica della differenza sessuale che la tecnologia bioamerica lascia intravedere come completamente disponibile alla scelta della libertà, mentre non lo è, rischia così di smantellare la fonte di energia che alimenta l'alleanza dell'uomo e della donna e la rende creativa e feconde. Grazie a tutti.